La battaglia di Waterloo è forse la più famosa tra le battaglie che la storia contemporanea e moderna ricordino. Napoleone era assolutamente sicuro di vincere contro la Lega degli Stati guidata militarmente dal Duca di Wellington e per una serie di circostanze più o meno fortuite e casuali invece la storia visse un proprio rovescio. Enrico Kissinger è solito citare la battaglia di Waterloo come un chiaro esempio di quanto il caso possa determinare le condizioni della storia. Ovvero il giorno prima della battaglia piove molto, i francesi non riuscirono a spostare nel fango i propri cannoni, un ufficiale di Napoleone travisò un'indicazione che gli era stata data e quindi non riuscirono a impedire che nuove truppe si convergessero con le truppe di Wellington. Gli artiglieri tedeschi non portarono con sé dei chiodi speciali che abitualmente erano usati per rendere inservibili i cannoni quando si doveva abbandonare il campo di battaglia, non li portarono e quindi i loro nemici usarono i loro stessi cannoni contro i loro. Una serie straordinaria di circostanze e di casualità che cambiarono il corso della storia di Francia, d'Europa e del mondo.